buonasera a tutti picciotti allora in questo video volevo fare questo video per parlare delle partite di ieri ma mi sono inciappato in un video di un personaggio veramente troppo falso c'è questo qua non solo che si contraddice ma è pure proprio falso a tutti gli effetti Nainggolan adesso ve l'avevo detto che Nainggolan non serviva ma guarda caso questo l'avevo detto io infatti avevo fatto un video e ve lo lascio sotto nelle info cliccate lì sopra e vi guardate il video dove io anticipavo che Nainggolan fosse oramai un giocatore diciamo fallito no fallito bollito ma in tal senso che il suo massimo già l'ha dato è sicuramente un buon giocatore ma nulla di più il suo massimo l'ha dato e secondo me l'Inter tutto questo affare con questo giocatore non l'ha fatto lui invece saltava di gioia finalmente è arrivato uno che darà filo da torcere ai cardi finalmente un vero top play adesso ve l'avevo detto ma io veramente non riesco a capire come la gente ancora sia capace a scrivergli sotto i commenti se è competente, se è bravo non lo so ma veramente assurdo comunque guardatevi il mio video sui giocatori credo di non aver mai sbagliato fino adesso potrò comunque sbagliarmi nessuno è infallibile ricordatevi di ciò quindi anche io niente ieri se guardiamo nel complesso nei 90 minuti abbiamo perso non abbiamo giocato una grande partita questo è pure vero però ragazzi la Fiorentina ha fatto un tiro un tiro e ci ha purgati Cianalolo il solito incapace cioè nemmeno questo ha perso addirittura il dono del tiro perché sappiamo tutti e anche io lo confermo che di norma è una sua dote di calciare bene ma anche ieri non è nemmeno più capace a calciare ha avuto un paio di occasioni davanti alla porta diciamo così dove poteva tirare sicuramente meglio di come lo abbia fatto però non lo so è un giocatore che sta deludendo a tutti gli effetti Suso ragazzi che dire il solito che comunque crea la pericolosità in quell'occasione c'è stata un'occasione dove ha smarcato due giocatori lì se la passava a Cassilejo era meglio è stato un po' egoista ma resta il fatto che lui è l'unico io non mi posso poi noi non ci possiamo lamentare su questo giocatore se poi è l'unico che crea un qualcosa sono gli altri che devono aggiungere un qualcosa in più poi Castilejo se continua così si sta rivelando un bidone a mio avviso spero che si sblocchi ma fino adesso non mi sta piacendo per nulla e Higuaín è il fantasma di se stesso cioè sì i palloni non gli arrivano questo è pure vero però Gonzalo è uno tecnico non riesce nemmeno a crearsi lui delle occasioni tira in maniera imprecisa quindi siamo veramente siamo messi male adesso col Frosinone giocheremo pure alle 12 e mezza sapete benissimo che io questi orari non li condivido alle 12 e mezza non è orario per giocare a calcio quindi questo appena ho visto l'orario non mi è piaciuto affatto ve l'avevo detto col Bologna ragazzi era una partita importantissima per il morale ciò io lo sapevo comunque la Juve cosa dire ragazzi volevo dire una cosa avete notato all'ultimo che il gol gli è stato tolto che hanno guardato la VAR ecco queste sono le situazioni quando io l'anno scorso feci il video il trucco c'è ma non si vede io sono sicurissimo ragazzi sicurissimo che se la Juve aveva bisogno questo gol non andava a vedersi la VAR assolutamente no siccome poi diciamo era già agli ultimi spiccioli oramai agli ultimi secondi la Juve già stava vincendo ha detto vabbè andiamo a guardare così annulliamo questo gol per dire sempre vedi che non c'è favoreggiamento pro Juve io parlo a livello generale non sto parlando di quest'anno questo è stato un esempio classico nulla da aggiungere questo è il trucco il trucco c'è ma non si vede chi non lo vuole vedere io lo vedo e quindi per me è così infatti diciamo me lo dimostra a me per fissa non mi ci prendono è questo ragazzi avete visto che personaggio falso adesso state capendo anche tutti i suoi presunti pronostici che alzecca non è nulla di vero perché una volta dici così una volta dici colà già io nei video quante volte ho sentito col Napoli Napoli stai attento non è detto che vinci poi così perderemo di sicuro e poi farà vedere il video se perdi ti farà vedere il video dove dice così perdi e se invece non perdi ti fa vedere il video dove ti aveva detto che non perdevano capite il trucco quindi su 9golan veramente assurdo io vi lascio il video giù nelle info andatevelo a vedere ho detto sempre solo una cosa non è che ho cambiato l'opinione l'ho detto dall'inizio mentre lui era lì a dire che era un top player eh sì 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 eh purtroppo ragazzi dobbiamo convivere anche con i falsi però almeno aprite gli occhi questo è tutto quello che vi chiedo va bene ragazzi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video un caro saluto dal vostro Leo ciao ciao